La pagina sportiva iniziamo con il calciomercato del Pescara. Frederik Sorensen è un nuovo giocatore bianca-azzurro. Il difensore danese questa mattina si è sottoposto alle rituali visite mediche, lo vedete in questa immagine, e poi ha firmato il contratto della durata di sei mesi con opzione di rinnovo a favore del club. Nel pomeriggio Sorensen, classe 92, ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Sempre in entrata è a un passo il giovane centrale Mancino Lorenzo Pirola, classe 2002 in prestito dall'Inter, ma attualmente è al Monza in uscita, Gennaro Scognamiglio, mentre Bocic andrà in prestito secco alla Prosesto, che milita nel girone A della Serie C.